Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono il lanciere, eccoci qua con un nuovo video dedicato alla raccolta Match Attacks 2022-2023 siamo a caccia della carta Game Changer di Leroy Sané esclusiva di questi Multiplac First Edition in vendita su tops.com Prima di partire con l'unboxing ho 6 Multiplac a disposizione, vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video e novità che andrò a pubblicare sul canale e soprattutto schiacciate un bel like al video Siamo pronti, facciamo un po' di spazio, ci mettiamo la nostra checklist da parte e partiamo con l'unboxing Partiamo con il primo Multiplac, distruggiamo tutto E allora, andiamoci ad aprire subito i primi due pacchetti da 12 carte Sulle Warrior e Next Gen Harvey Elliot, due carte molto interessanti Abbiamo già detto nell'altro video che queste carte sono molto belle, l'unica cosa che mi lascia perplesso è lo stemma Insomma, la carta stemma poteva essere fatta in maniera diversa, invece si è deciso di farla così come le altre carte Gavi Altra carta novità di quest'anno, l'Enforcer, in questo caso abbiamo trovato Mamoud Hud del Borussia di Dortmund Anche questa è una carta davvero molto bella E abbiamo trovato la Man of the Match Signature Style di Tammy Abram E siamo arrivati al nostro pacchetto speciale E in questo caso troveremo le carte First Edition Allora, Joao Cancelo Abbiamo Tomori Chris Smalling Lo stemma del West Ham La carta Styler First Edition di Luca Modric La Legenda di Gascoigne E la carta Limited Edition di Riyad Mraetz Quindi, anche in questo caso, non abbiamo trovato nulla di interessante Andiamo avanti con un nuovo multipack E altri pacchetti Primo pacchettino Allora, vediamo Creswell Ancora la carta di Gavi Poi abbiamo Eleni Tomori Cancelo Bellingham Abbiamo Ottavio Odegaard Lo stemma del Paris Patrick Schick La carta Match Winner di Aubameyang E ancora una Legend Abbiamo trovato Paul Gascoigne Anche in versione non First Edition Secondo pacchettino Per questo multipack Allora Allora La Warrior di Gerard Piquet E la Man of the Match Signature Style Di Jack Grealish Quindi un'altra Warrior Mentre le altre le mettiamo tra le carte base Passiamo al pacchettino First Edition Allora Andiamo a vedere che cosa troviamo Forza ragazzi Bisogna trovare assolutamente la carta Match Winner Abbiamo Stemma del Liverpool Blind La carta di Adeyemi Abbiamo Grimaldo Warrior Gerard Piquet E ancora la carta Legend di Paul Gascoigne Che abbiamo già trovato E la carta Limited Edition Di Vinicius Junior Altro multipack Andiamo con il nostro terzo Multipack Partiamo con il primo pacchettino Sempre 12 carte in ogni pacchetto Abbiamo Wegel Araujo Tomori Gakpo Iota Non sembra il Borussia Uribe Martinelli Juaribo Florian Birz Uno stopper Ederson E una next gen E Jeremy Quindi altre carte Molto interessanti Andiamo avanti Altro pacchetto Secondo Poi abbiamo L'Enforcer Mahmood Dahoud E la Signature Style Man of the Match Di Tami Abram Praticamente La stessa accoppiata Che abbiamo trovato Nell'altro multipack Pacchetto First Edition Allora Stemma del Borussia Almeida Lanzini Florian Birz Lo Styler Di Julian Brand E l'abbiamo trovata Ragazzi L'abbiamo trovata La Game Changer Di Sadio Manet Ce l'abbiamo fatta Al terzo multipack E abbiamo trovato Anche la Limited Edition Di Vinicius Junior Doppia Eccola qui Game Changer L'Heroa Sané Al terzo Multipack Carta esclusiva Del sito Tops Dei Multipack First Edition L'abbiamo portata a casa Fantastica La carta Di Sané Questo punto direi Che ci possiamo fermare Qua con il video Il nostro obiettivo L'abbiamo raggiunto Al terzo multipack Abbiamo trovato La carta Game Changer Esclusive Edition Di L'Heroa Sané Abbiamo trovato Anche un po' Di carte interessanti Due Limited Edition Che ci mancavano Vinicius Junior E Rihad Mraiz E altre carte First Edition Che vanno a sommarsi Alle prime Che abbiamo trovato Nell'altro video Per cercare Di completare Il set First Edition Composto da 64 E più carte Detto questo Ragazzi Prima di andarvi a salutare Vi ricordo come sempre Di iscrivervi al mio canale Se ancora non l'avete fatto Attivare la campanella Per rimanere sempre Aggiornati su tutti i video Le novità Che andrò a pubblicare sul canale E soprattutto Schiacciate un bel like Al video Detto questo Con la carta Game Changer Di L'Heroa Sané Carta esclusiva Vi saluto E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie per la visione!